Su di giri amici sportivi e benvenuti all'ennesima puntata di Chiedi al Bardo, la videorubrica che risponde alle vostre domande. Oggi mi è arrivato il quesito forse più difficile tra tutti quelli che ho affrontato da quando è iniziata questa avventura. Ed è il seguente. Chi è e come si identifica, secondo te, un vero intenditore di wrestling? Un vero intenditore di wrestling. Che roba. Non è per niente semplice, ma ci provo. Innanzitutto un vero intenditore di wrestling ne guarda il più possibile. E cerca di capire, per ogni federazione che guarda, qual è il suo pubblico principale di riferimento e se sta fornendo il prodotto che quel pubblico vuole. Devi guardarlo a mente libera, a cuore sereno, con l'intento di divertirti e non di criticare. A prescindere, chiaramente. E devi andare oltre l'apparenza e analizzare il prodotto proprio per come ti ho spiegato. WWE è una compagnia che propone wrestling e intrattenimento. Quindi ci saranno anche match comedy. Ci saranno rivalità basate su cose divertenti. Ci saranno momenti in cui verranno coinvolte delle star al momento molto famose. Cercheranno di sposarsi a ciò che è di popolare, di cultura pop in quell'istante. A differenza di quello che accade in Giappone, soprattutto nelle measure giapponesi. Dove invece, per cultura e tradizione, la proposta è incentrata su incontri tecnici molto lunghi. Con un racconto, uno storytelling interno al match importante. Con sequenze finali di near falls, spesso lunghe 5, 6, 10 minuti. Che è diverso da quello che vedrete in Giappone. Con gli atleti mascherati, con match con le maschere o i capelli in palio. Con sfide su più round, detti caide. Con un capitano e due alfieri. Con il doppio arbitro. Insomma, paese che vai, usanza che trovi. Un vero esperto di wrestling guarda tutto il possibile. Io spero in maniera legale. Perché in maniera legale. Sostieni quelle federazioni e i loro atleti. In chiusa parentesi. E cerca di mettere tutto in prospettiva. Senza lasciarsi guidare dal tifo o dall'appartenenza verso una determinata sigla. Un vero esperto di wrestling non si limita a leggere i siti web. Anche perché spesso le notizie o i rumors che acquisite sono fuffa e privi di fondamento. Magari un giorno parlerò di tutto questo. Spiegandovi come ciò che leggete sia privo di ogni fondamento giornalistico. Vi faccio un esempio. Un paio di mesi fa si era diffuso il rumor che Vince McMahon non gradiva Sasha Banks. Perché si infortunava troppo. Eppure non è mai stato diramato chi ha intervistato Vince McMahon. Chi ha sentito l'opinione di Vince McMahon. Da dove è stata appresa la notizia che Vince McMahon non gradisse Sasha Banks. A chi Vince l'ha detto? Eppure tutto il web l'ha riportata. Qualche settimana più tardi Sasha Banks diventava campionessa femminile. Vedete che c'è un cortocircuito. Secondo voi Vince McMahon parla male in pubblico di un suo atleta? Tra l'altro di un atleta che NXT è fatto bene? Ecco, il vero esperto di wrestling va oltre questi rumors. Cerca di informarsi cercando di acquisire, di portare a casa, di leggere in inglese libri, riviste. Cerca quei siti che trattano il wrestling in maniera più specifica, meno immediata. E oggi è difficile trovarli perché chiaramente sul web tutti pensano alle hits, alla page view, a farti vedere più pagine possibili. Perché in ogni pagina c'è una pubblicità. Più clicchi, più aumenta il mio guadagno. E quindi è più semplice scrivere un rumor o addirittura inventartelo che intervistare un veterano del ring che ti spiega delle cose tecniche che possono aumentare il tuo bagaglio di conoscenza. Un vero esperto di wrestling guarda il prodotto per divertirsi innanzitutto e non per criticarlo a prescindere. Lo spirito critico non deve sopirsi, ma non deve essere il principale motore che ti spinge a guardare. Un vero esperto di wrestling sa di non sapere, sa che magari ha delle deficienze mnemoniche, che non puoi memorizzare tutto, ne è cosciente, e non si vergogna a dire mi informo, mi ricordo, vado su internet e cerco di recuperare quello che non ho visto o che ho dimenticato. Un vero esperto di wrestling ama la disciplina e cerca di conoscere ogni suo anfratto, cerca di capire cosa sono veramente le gimmick, cos'è la gimmick in progress, come si costruisce il dietro le quinte di uno show. E in Italia, così distanti dal mondo USA, è molto difficile. Io sono stato a Ro, a Wrestlemania, ho visto gli show dal dietro le quinte, il lavoro che c'è dietro ha un segmento di 4 minuti e 52 che vedete in televisione. Uno scrive un booking di fantasia su internet e crede di essere un grande sceneggiatore, non è così. Per 5 minuti di televisione reale che vedete c'è un lavoro differente rispetto alla Entra Cesaro e vince il titolo. Il vero esperto di wrestling sa queste cose e le tiene in considerazione. Uno che non si accoda all'opinione galoppante, ma cerca con la sua esperienza e il suo intuito di vedere oltre. Anche qui vi faccio un esempio. Molti hanno criticato la scelta WWE di portare The Next Eish, Shinsuke Nakamura, piuttosto che Samoa Joe. Questo è quello che dice un fan poco attento. Perché? Perché l'emotività ti porta a dire che hanno combattuto in altre federazioni, e vinto altri titoli e quindi sono già pronti. Ma lo stile WWE impone 300 giorni di lavoro, ti fa disputare 180 match all'anno. E Shinsuke Nakamura e Samoa Joe, negli anni precedenti all'arrivo in WWE, se disputavano 60 match all'anno era tanto. Oltretutto li disputavano in una zona geografica limitata, che prevedeva pochi spostamenti. Mentre in WWE, oltre ai tuoi 180 match all'anno, è anche 60-70 giorni da dedicare alle attività mediatiche. A volte anche di più. In più devi fare beneficenza, in più devi andare ospite nei programmi televisivi, in più devi essere in studio per girare materiale videografico, legato ai DVD o altre cose. Ecco, il vero esperto di wrestling è quello che cerca di lasciare la sua impronta conoscitiva in tutti questi aspetti. Io genericamente quando leggo in internet persone che parlano di wrestling, cerco questo tipo di analisi. Un'analisi diversa, un'analisi che richiede più tempo, un'analisi non premiata dal consenso popolare. È più facile scrivere Roman Reigns fa schifo, sbaglia la spiar, è un incapace. È molto più difficile dire, telefono a cinque wrestler italiani e gli chiedo se Roman Reigns è incapace, se sbaglia la spiar, come potrebbe eseguirla meglio. Faccio un'analisi tecnico reale su come conduce il match, sulle transition di un match. Sono tutti i termini che pochi oggi portano alla vostra conoscenza. Se il suo comeback da face è fatto bene, se i suoi false comeback, cioè la finta, il momento in cui finge di riprendersi ma poi torna ad essere sepolto dal nemico, hanno un tempismo esatto. Un vero passato di wrestling è quello che sa che si balla in due nel ring, che non c'è uno che fa tutto e l'altro che viene trascinato, arriva dal nuotatore più esperto. Insomma, ho fatto un po' un elenco della spesa, ma ecco, si parte da qui. E ti dicevo, quando io cerco su internet e provo un confronto, ho piacere, mi piace, leggo volentieri, chi fa questo lavoro, ed è un lavoro, ripeto, oggi non gratificato, perché i fan sono abituati alla sindrome da patatina, io la chiamo così, ovvero voglio leggere tre righe, mordere, perché ti devo prendere una patatina dal sacchetto, e passare ad altro. Se invece io ti propongo un'analisi completa, tecnica, con fonti, eccetera, che palle, è lungo e non si sbattono. Ecco, il vero fan di wrestling è quello che invece si sbatte, il vero appassionato, non fan, il vero appassionato di wrestling è quello che si sbatte, e invece si legge tutta quella spatafiata per saperne di più, e comprendere la disciplina a 360 gradi. Mi fermo qui, perché sennò il video diventa lunghissimo e non mi seguite. però è un argomento sul quale possiamo e dobbiamo ritornarci. Però adesso tocca a voi, perché questa è una rubrica dove c'è interazione, quindi qua sotto mi aspetto che siate voi adesso a dirmi chi è per voi e da cosa definite, quali capacità deve avere un vero appassionato di wrestling, un vero intenditore, cioè un vero trendsetter, un vero numero uno, una persona che quando parla di wrestling sapete che ha gli attributi, che è attendibile, che quando parla lui tutti in silenzio e si deve soltanto apprendere. Forza, dita roventi, adesso tocca a voi. Soprattutto, prima di chiudere, una piccola richiesta, se questi video vi piacciono datemi una mano a diffonderli, una condivisione, a voi che costa, un click su Twitter, su Facebook, su tutti gli altri social, e un attimo, date una mano al Bardo e il Bardo continuerà a rispondere alle vostre domande. Grazie mille per l'ascolto e la pazienza e ci vediamo quanto prima sempre qui su YouTube con Chiedi al Bardo.